Passo la parola alla professoressa Leconcelli. Presentare Elisa per me è veramente una cosa ardua, perché sono solo un'amica e non sono un critico letterario, mentre lei è abituata ad avere omaggi di critiche letterarie veramente di grande valore. Comunque mi sento di ringraziarla per avermi dato la possibilità di presentare questo suo ultimo libro, che spero che non sia l'ultimo, che è così poi significativo, credo, per me, per lei, ma anche per tutta la comunità di Feicchio che lei canta, racconta in tutte le sue sfumature. Allora, ieri, mentre parlavo con Elisa, mi è venuta fuori una frase che lei ha ritenuto bella e con la quale io devo iniziare la mia relazione. Così mi ha detto e così faccio, perché per me lei è una grande maestra. Quando insegnavo, ero solita dire ai miei ragazzi, bisogna essere come l'albero, che è sempre in preghiera, come l'acqua fissa all'eternità. Intendevo dire che per osservare la realtà e cogliere in essa il senso della bellezza, il senso dell'armonia, occorre oltre allo sguardo una disposizione interiore, simile a quella di Elisa, io ti chiamo Elisa ogni tanto, tu mi perdonerei. Occorre, dicevo, oltre allo sguardo una disposizione interiore simile a quella di Elisa che con la sua poesia invita al silenzio, al raccoglimento, alla contemplazione del creato, forse per entrare più intensamente nel mistero della vita, ma anche per cercare risposte globali più appaganti. E nel suo libro, nel suo libro Miscellanea, la rupe è appunto il nido sul titerno, l'autrice ci comunica un messaggio di fede così forte, così importante, così grande, da consegnare alle future generazioni. Ma per una donna come Elisa del Giudice ho ritenuto rispolverare Aristotele, a lei sembrava troppo importante, ma io lo dirò lo stesso. Le parole parlate, dice Aristotele, sono i simboli dell'esperienza spirituale e le parole scritte sono i simboli di quelle parlate. Mi pare che questo pensiero si addica tantissimo ad Elisa e alla sua sensibilità, perché le sue parole in effetti passano sempre attraverso lo spirito, divenendone prima espressione e poi documento. Mentre i suoi simboli sono tatuati nel libro che appunto mi accingo a presentare e che è impreziosito anche dalla presenza grafica di Piero del Giudice, il fratello all'è così caro. Sono parole che invitano lo sguardo all'inizio ad indagare su un paesaggio particolarmente caro all'autrice, per poi ascoltarne le espressività sonore attraverso le sue poesie, i suoi scritti, le sue narrazioni, da cui emergono sentimenti ideali e valori così pregnanti da appartenerle costantemente tutta la vita. Ma prima di frugare nel testo mi soffermo sulla parola nido, una metafora per esprimere un luogo intimo che racchiude e sprigiona un calore primordiale. È quella dimensione affettiva da cui nessuno di noi può prescindere e dove la persona costruisce se stessa. È così anche per Elisa. Il nido, sinonimo di famiglia e paese anche, le ha fornito quel nutrimento spirituale e culturale permettendole da una parte di rimanere ancorata alle sue radici e dall'altra di dialogare con il mondo attraverso la sua straordinaria sensibilità. Un mondo dove costantemente hanno interagito le componenti affettive e culturali e che Elisa ha donato come persona e come insegnante, sollecitando i suoi glieli verso, come lei stessa dice, itinerari sani, lontani da ideologie ingannevoli. Un insegnamento alimentato da una grande fede e da un'immensa aspirazione al bene. Parole dell'autrice che esprimono la sua profonda vocazione, nutrita di quei valori laici e religiosi, che condivido pienamente, tanto da poter dire quasi per celia, di entrare nelle sue scarpette, anche se sono molto più piccole delle mie. E la traduzione è appunto letterale di una frase inglese per capire ed esprimere il concetto di empatia, la capacità di porsi in maniera immediata nello stato d'animo di un'altra persona attraverso le cosiddette affinità elettive, attraverso, aggiungo, lo stesso modo di intendere e di sentire le cose, a prescindere dall'età anagrafica. E questa alchimia tra me e Elisa è riuscita e per questo le sono molto grata. Il libro che ella dedica alla famiglia e ai suoi affetti più profondi, pur essendo diviso in sezioni, ha una sua unitarietà e invita i lettori a rimanere aderenti alla pagina perché ogni volta si ritrovano Elisa Persona ed Elisa Scrittrice, un binomio non scendibile in tutta la sua compiutezza, ma io aggiungerei anche in tutta la sua autorevolezza. Un'autrice fortemente ancorata a valori nitidi, solidi, che conservano le impronte della sua formazione classico-umanistica. Valori che ho chiamato senza tempo, necessari io credo per dare un senso al nostro cammino, per trovare quiete dentro se stessi e attraverso questa donare poi fiducia e speranza. Quindi un movimento circolare che si nutre di infinito e un viatico per approdare ad una visione dell'amore intesa proprio come autentica scesa conoscitiva verso l'idea del bene e del bello, l'idea che appunto Elisa ha dell'amore e che nella poesia trasformazioni diventa diventa proprio lezione e scrittura, invitando l'uomo di oggi, così scollato dall'esercizio virtuoso, a divenire, uso le parole dell'autrice, creatura alata che si nutre di libertà e di polline, come il bruco che, spinto da un'intima forza, incontra la sua pienezza di vita nell'attenzione dell'opposto. Un credo insistente che diventa preghiera in notte di Natale, un'altra poesia di Elisa, dove chiede a Cristo bambino di accendere i cuori di ideali e di sogni che attingano al suo essere infinito e diventa una richiesta incisiva affinché la formula augurale Buon Natale, anche questo titolo di una sua poesia, sia pronunciata solo se ad ogni passo della vostra vita voi vi impegnate perché il messaggio della Notte Santa sparga sul mondo tanto, tanto amore. Può sembrare in una situazione storica così complessa come quella che stiamo vivendo un anelito senza riscontro, ma sono invece espressioni poetiche forti, energiche, vitali, nelle quali l'autrice vuole credere e spinge ognuno di noi a crederci. Perché è proprio nei momenti chiave della nostra storia personale e collettiva che è necessario ritornare alle origini e attingere alla sapienza custodita nelle radici. Elisa ce lo insegna e lo sentenzia. Bisogna conoscere le radici, amarle, difenderle. È stato questo un ideale per molti di noi che tramontiamo. Nella segreta speranza di non essere delusi lo affidiamo con trepidante amore alle generazioni che verranno. E per farlo io credo occorra lasciarsi sorprendere dalla verità che abita da sempre dentro di noi e lasciarle spazio. Quindi è l'ospicio che l'uomo recuperi un cuore nuovo, come aveva affermato Giovanni Paolo II in occasione del messaggio per la 17esima giornata mondiale della pace, era l'8-12-1983. E aggiungo io, un cuore virtuoso che sape compiere delle scelte più consapevoli in sintonia con le parole dell'autrice. E senza questo cuore, in effetti la realtà appare un scenario muto. Ma Elisa non cede mai allo sconforto, neppure quando la memoria si apre su scenari a lei particolarmente cari e struggenti. le viene in soccorso un timbro poetico velato sì di malinconia, ma capace di recuperare l'incanto e l'illibatezza di immagini che il tempo non ha minimamente sfiorato, dilatandone la durata e l'intensità. A dimostrare che la poesia nasce da un atto d'amore verso la realtà ed è ad un tempo aperta alla speranza. Perché solo se c'è una speranza che qualche cosa duri e debbia avvalicare le curve del futuro, si ha l'atto poetico. Quella di Elisa del Giudice è una parola che dà vita ed esprime valori. E il canto dell'esistenza pervaso da una profonda spiritualità è l'espressione che rappresenta l'umano nelle pieghe intime del suo animo. In Divagazioni e Bozzetti, nella seconda parte del libro, l'autrice si lascia ancora prendere per mano dalla sua memoria emotiva, offrendoci pagine intense dove ella rivive le certezze dei suoi affetti e il legame indissolubile alla sua terra, oltre che i colori della sua terra, legati anche all'alternarsi delle stagioni. Sostenuta poi dal gusto della penetrazione minuta dello sguardo, incontra in un racconto bellissimo che si intitola Orchestra d'Erbendare Elisa, un filo d'erba sognante nell'attesa del suo destino. Un filo d'erba che chiaramente trascende il suo significato letterale, ma non paga, continua a spaziare nella bellezza del creato, dove, dice lei, due consistenze dissimili ne rappresentano gli estremi, le apparizioni estreme, la montagna e il mare, il titolo di un altro racconto bellissimo che nella contemplazione poi dell'universo riescono ad amarsi al di là del tempo e dello spazio. L'incontro è narrato con suggestione e ritmo musicale, vista e udito sono mescolati insieme a ricreare le forme semoventi, gli scintilli colorati, le sonorità del mare sospinto dalla forza del vento e la bellezza più statica, dura ed aspra, ma altrettanto armoniosa della montagna. La magia della poetessa sta nel coinvolgergli appunto nella dimensione dell'infinito. È veramente un racconto bellissimo, misura dove confluiscono anche esempi umani di raro valore che hanno inseguito i loro sogni operando per diffondere il bene attraverso vari canali del sapere. Clotilde Michele, divenuta Suor Maria Serafina, è una testimonianza luminosa, ma Elisa vuole raccontare, vuole dedicare un racconto con un convegno d'agosto anche ad Antonio Petella per la sua sensibilità, per la sua apertura mentale, per la sua dolcezza e quindi anche per la sua preparazione. Perché è sempre il concetto di tensione che pervade la narrazione di Elisa del Giudice, dove risuona la sua profondità e la sua interiorità e dove trovano rifugio gli affetti, l'amicizia, la solidarietà, l'amore per l'arte e per la grande musica di cui l'autrice si è costantemente nutrita e senza la quale il mondo le sembra ancora più stonato. Ma lo scorrere del tempo, che altro non è che il fluire della nostra vita, le pone un'urgenza, lasciare un segno. Dove? Nella sua casa signorile, ancora palpitanti di presenze accanto ad oggetti che quasi chiedono di raccontare la loro esistenza, sono parole dell'autrice. Forse, ma mentre la poetessa un po' stanca e dubbiosa tenta una soluzione, Apollo Buongustaglio la invita a rilassarsi. Segni gustosi del passato le vengono incontro, sono immagini culinarie che lei rivive e consegna alla parte conclusiva del testo del libro più bello. E tra torte incantate, incantate, frittelle e piccatine, ancora tenere presenze e dolci legami, ma sempre illuminati dal chiarore della luna e da manciate di stelle che Elisa ha chiesto in prestito alla bellezza dell'universo. E sulla scia dei ricordi un'Elisa ancora sognante, consapevole che senza la capacità di sognare ben poca cosa sarebbe la vita. E' questo il suo messaggio, è questo il suo atteggiamento interiore, è questo il segno tatuato nella sua anima che sempre guarda verso la dimensione dell'infinito. Perché è solo nell'ampiezza creaturale che ella cerca ed afferma la sua identità ed individualità. solo così conoscere la disponibilità percepire la positività del mondo e a sentire il bene colto nella bellezza. Io vorrei concludere con una poesia di Elisa la pagina 31 che si intitola Cosa lascia? Mi chiedo cosa lascia? Questo mucchietto d'ossa è quasi un nulla ma se tu volgi intorno il tuo sguardo indagante tra l'albe fredde e i fremiti d'aprile nemeriggi infocati o dentro il vento fuoriero dell'autunno o nel fulgore del sole tutto d'oro forse tu scorgerai frammenti del mio sogno quali farfalle fragili vaganti sopra i fiori o come bianche ali di cigno palpitanti su un fiume chiaro avido di azzurro grazie